bentornati o benvenuti sul canale io sono eleonora e oggi andiamo a parlare di educazione gentile questo è il primo video dedicato appunto all'educazione gentile anche se io ritengo che all'interno dell'educazione gentile rientri assolutamente anche tutto ciò che riguarda il metodo o la psicopedagogia Montessori quindi vi lascio sia qua sopra nelle schede che giù nell'infobox la playlist dedicata proprio a Montessori che comprende tanti video che ho fatto in questi anni dedicati proprio al metodo Montessori andiamo adesso però a parlare proprio di educazione gentile della quale negli ultimi anni si sente abbastanza parlare che cosa significa educazione gentile si applica la scuola si applica la genitorialità quindi indaghiamo un pochino dunque l'educazione gentile si va un po a contrapporre ad un metodo educativo che c'è stato per tantissimi anni di tipo diciamo più autoritario nel quale comunque da una autorità appunto che possa essere il genitore piuttosto che la scuola l'istituzione scolastica viene impartito vengono impartite al bambino delle regole comportamentali che vengono date così precostituite date e che il bambino deve accettare senza fiatare questo fondamentalmente è un tipo di educazione che ricorre spesso a premi punizioni minacce e quant'altro e questo vale sia per l'ambito scolastico che per l'ambito genitoriale no ed è un tipo di educazione di modello educativo che viene utilizzato tutt'oggi dalla maggior parte delle persone sia in ambito scolastico ripeto che in ambito familiare questo perché perché l'educazione tradizionale se così vogliamo l'educazione autoritaria l'educazione anche vorrei dire l'indottrinamento ecco che è diverso dall'educare è sicuramente più semplice per l'adulto perché perché l'adulto si ritiene depositario di un sapere che deve passare trasferire al bambino e questo si presta molto bene a io ti insegno e tu devi fare così perché sono l'adulto e tu sei il bambino io mi metto in cattedra e tu di fronte a me apprendi quello che io ti devo dire e che io ti insegno l'educazione gentile ribalta completamente questo concetto tutti questi concetti e l'adulto si mette sullo stesso piano del bambino maria montessori è stata una degli antesignani dell'educazione gentile di un'educazione rispettosa del bambino di un'educazione che fosse accompagnamento allo sviluppo naturale del bambino e non indottrinamento purtroppo in italia non ha così tanto attecchito per motivi storici questo genere di modello educativo che invece in altri paesi soprattutto nel nord europa è molto più diffuso e difatti i bambini diciamo sicuramente vivono il concetto di scuola in modo completamente diverso e le scuole gli insegnanti vengono premiati con premi internazionali nei quali purtroppo gli insegnanti italiani quasi mai rientrano ma c'è un'eccezione della quale poi parleremo vado a prendere i miei appunti perché voglio entrare un po nel vivo di questa della questione educazione gentile quindi non disperdemmi dato che io sono una divagatrice quindi cerco di stare sul pezzo questa volta perché l'argomento è davvero vastissimo allora ripartirei un attimo da quello che è il concetto di mente assorbente del quale ho parlato e che se non avete visto quel video vi consiglio di andarlo a vedere ve lo lascio su nelle schede giù nell'info box perché perché il primo lavoro che noi dobbiamo fare se vogliamo essere insegnanti e genitori nonni babysitter chiunque che si approcciano con l'educazione gentile e bambini è un lavoro su noi stessi proprio perché non dobbiamo insegnare quindi indottrinare il bambino ma il bambino apprenderà assorbirà dall'ambiente le nostre buone abitudini la nostra educazione la nostra gentilezza quindi questa è la cosa più importante da fare e comprendere proprio quello che è il meccanismo della mente assorbente andrei però nel vivo della questione perché ho deciso di approcciare l'argomento educazione gentile proprio perché è un argomento vastissimo partendo da quelli che sono da sempre i miei migliori amici ovvero i libri e oggi ve ne presento due due libri meravigliosi che vi consiglio vivamente di leggere soprattutto se siete insegnanti e di regalare agli insegnanti dei vostri figli specialmente agli insegnanti un po' difficili e parlo di questi due libri iniziamo dal primo puoi costruire per me una scuola gentile libro che fornisce tantissimi spunti non solo agli insegnanti ripeto ma proprio in generale ai bambini e che adesso andremo a vedere più nello specifico allora una cosa molto importante mi sono segnata le pagine scusatemi ma così riesco a essere più precisa la prima cosa che dobbiamo andare a fare se vogliamo essere educatori gentili genitori gentili è combattere ogni tipo di violenza anche quella che ci viene diciamo un po' in automatico un po' spontanea e vi voglio leggere un passaggio di questo libro davvero bello quando parlo di violenza forse alcuni di voi penseranno ma cosa c'entra con la scuola e io direi anche con la famiglia soprattutto cosa c'entra con l'infanzia forse se ne può parlare a partire dalla scuola primaria e invece no la violenza è una questione che riguarda tutta la comunità educativa quindi compresi anche i genitori la scuola di ogni ordine grado e la famiglia che sono due realtà ad alto rischio violenza la violenza trova molte strade per insinuarsi a volte non è così plateale ma preferisce far sanguinare voi pensate che la violenza sia sempre una manifestazione lampante o che sia solo fisica non è così può essere violento il linguaggio lo stereotipo il giudizio è violenta l'indifferenza può diventare violenza la superficialità è violenza la pretesa ti voglio così anche quando si veste di toni pacati è violenta la manipolazione a volte è violento il non detto se lascia trasparire derisione scherno disprezzo ho trovato e trovo molta violenza nelle scuole e nelle case e non intendo fra bambini non sto parlando di bullismo mi riferisco alla violenza generata dagli adulti di riferimento spesso agita inconsapevolmente in modo superficiale e distratto più raramente in modo intenzionale parole dure ma che dobbiamo devono assolutamente farci riflettere come si esprime la violenza? uno degli esempi di cui tratta questo bellissimo libro sono le parole le parole che possono essere finestre oppure muri le parole vanno scelte con cura e sono ad alto rischio violenza e noi non ce ne rendiamo conto le parole finestre sono aperte creano ponti connessioni ci permettono di dialogare di confrontarci di guardare oltre le parole muro innalzano barriere sono chiuse, accartocciate, non cercano il confronto sono parole di ostilità, giudizio e non dovrebbero mai far parte del lessico, dell'educare sottolineo mille volte questa frase hai dato un pizzico a Maria e lei ora sta piangendo hai visto che hai fatto, sei proprio cattivo, vergognati, chiedi scusa devi essere gentile, quante volte te l'ho detto l'insegnante ha pensato così di educare alla gentilezza questo bambino di 4 anni secondo voi in questo modo educhi alla gentilezza? queste sono cose che scappano a insegnanti, a genitori può succedere, non ci dobbiamo colpevolizzare per questo però, ecco, le parole muro, lei dice cattivo e vergognati, ripetute siamo sicuri che il bambino comprenda il messaggio così è un'imposizione, chiedi scusa quante barriere abbiamo messo fra noi e il bambino pronunciando solo una semplice frase quindi, cosa dobbiamo fare? dobbiamo lavorare appunto su noi stessi, sulle nostre reazioni sulle parole che dobbiamo scegliere con cura e con attenzione se vogliamo educare alla gentilezza la prima forma di violenza è il linguaggio che viene spesso e volentieri usato a sproposito e non parlo, non mi riferisco solo all'educazione nei confronti dei bambini ma se ci pensate anche alla vita di tutti i giorni quante volte usiamo parole che magari non vengono così pesate giudizi, parole muro sui social poi è un dilagare pazzesco ma anche tra persone dal vivo spesso questo accade quindi iniziamo a lavorare da noi un'altra cosa che mi piaceva farvi condividere insomma con voi è la differenza tra educare e indottrinare vado a cercare la pagina nella quale appunto avevo preso appunti ah ecco altra cosa perché educare contro indottrinare allora andiamo a leggere indottrinare, istruire, far assimilare con opera di insegnamento e di persuasione insistente e metodica i principi di una dottrina treccani eh educare in generale promuovere con l'insegnamento e con l'esempio lo sviluppo delle facoltà intellettuali estetiche e delle qualità morali di una persona specialmente di giovane età sono due cose davvero molto diverse educare e indottrinare quindi cerchiamo di tenere bene a mente queste definizioni di capire come ci poniamo noi e soprattutto che dobbiamo questo lo dico sempre l'avevo detto anche nel video nel quale dobbiamo limitare i no non fare qui, non fare lì non litigate per esempio è una cosa che accade molto spesso e si ascolta molto spesso spesso nelle case quando ci sono fratelli e qua proprio lo dice non litigate, non urlate passiamo ad analizzare questo contenuto perché non litigare? dovremmo permettere ai bambini di imparare a gestire i conflitti o dobbiamo censurare le loro emozioni vi sembrerebbe possibile dire a un adulto non si litiga? e come si fa ad andare sempre d'accordo? non è sano e normale anche litigare a volte? provando in quel momento rabbia e frustrazione per non sentirsi capiti magari dirsele a gran voce e poi spiegarsi, chiarirsi e scusarsi e che ne dite di regole come si obbedisce alla mamma o si obbedisce alla maestra? non vi sembra un po' sbilanciata? quasi un abuso di potere? si ascolta e si rispetta la mamma mi sembrerebbe una regola molto più adeguata ma nello stesso tempo si ascoltano e si rispettano i bambini ragazzi questa è meravigliosa io la appenderei nella cameretta si ascolta e si rispetta la mamma e il papà ma si ascolta e si rispettano anche i bambini quindi questa è la base dell'educazione gentile scegliere con cura le parole metterci sullo stesso livello del bambino e non in cattedra questo è molto importante ed è quello su cui io vorrei in questo video porre l'accento in maniera diciamo forte vi lascio sotto comunque sul blog proprio perché è un argomento del quale sono particolarmente insomma interessata e che voglio trasmettervi un po' un riassunto di quello che ci diciamo oggi come regoline quindi molto breve ma che magari vi potete andare a rileggere quando avete bisogno di fissare nella mente le basi dell'educazione gentile e poi ancora un'altra cosa un altro passaggio che aspettate che cerco la pagina che secondo me è molto molto bello e che spesso diamo per scontati è amare incondizionatamente e anche questo spesso purtroppo non riusciamo a farlo quante volte amiamo incondizionatamente i bambini così come sono senza volerli cambiare quante volte invece di guardarli davvero di metterci profondamente in ascolto dei loro bisogni noi adulti continuiamo a vedere solo noi cosa vorremmo noi cosa faremmo noi cosa serve a noi per essere soddisfatti cosa serve a noi che il bambino faccia dica pensi così no tesoro te l'ho detto cento volte dice con tono dolce rassicurante mentre sfila il pennarello dalle dita della bambina e lo posiziona nell'altra mano quella giusta la mano destra queste cose avvenivano davvero ora magari meno non più in alcune scuole ancora però si cerca di aggiustare i bambini tra l'altro ecco questo libro specifica questa scena accadeva solo tre anni fa è un libro del 2019 non 30 in una scuola dell'infanzia dove ho svolto il ruolo di formatrice e tutor questo non va assolutamente bene quello che ci siamo sentiti dire da bambini stai fermo muoviti fai piano sbrigati non toccare stai attento non ti sporcare ti sei sporcato stai zitto parla chiedi scusa saluta vieni qui non starmi sempre intorno attento che cadi te l'avevo detto che cadevi peggio per te non stai mai attento non sei capace quante volte diciamoci la verità abbiamo detto una di queste frasi ai nostri bambini come può un bambino percepirsi adeguato capace all'altezza delle aspettative se ogni parola rimanda a un rimprovero un divieto un giudizio un'ammunizione come costruire equilibrio e fiducia in se stessi se la comunicazione è veicolata attraverso un linguaggio sciacallo quello che avremmo voluto sentirci dire che dovremmo dire ai nostri figli è ti amo sei bello sono felice di averti parliamo un po' di te troviamo un po' di tempo per noi come ti senti puoi dire tutto quello che vuoi ho fiducia in te mi piaci come sei è bello stare insieme dimmi se ho sbagliato questa è un'altra cosa molto importante mettiamoci in discussione anche noi sbagliamo e se sbagliamo chiediamo scusa non diciamo al bambino chiedi scusa ma impariamo noi a chiedere scusa se sbagliamo e loro impareranno a farlo a loro volta questa è la chiave quindi metterci anche noi in discussione perché la vita è un percorso dove non si arriva mai e non è una gara dove chi arriva prima chi arriva dopo è un percorso siamo tutti sullo stesso viaggio insieme ai nostri figli anche noi possiamo sbagliare crescere con loro imparare da loro anche se hanno 30 anni meno di noi quindi cerchiamo di entrare in un'ottica diversa siamo stanchi ma magari anche il bambino è stanco e se proprio non resistiamo magari lo trattiamo male chiediamo scusa mamma è stanca perdonami sono stanca cioè mettiamoci sullo stesso piano del bambino questo è molto molto importante anche questo passaggio lo trovo meraviglioso proprio da da tatuarsi come genitori e come formatori in generale andrei andrei a concludere con gli ultimi passaggi prima di introdurvi brevissimamente l'altro libro e dunque un'altra cosa molto importante che c'è nella parte finale di questo libro è proprio rendersi conto che il bullismo la violenza il bambino violento generalmente cresce all'interno di un ambiente violento qui non parliamo dei bambini che intorno ai due anni spingono mordono eccetera perché quello rientra all'interno di una situazione normale diciamo che accade a tutti i bambini che non sono ancora verbali che ancora non hanno imparato a gestire le emozioni e ne parleremo in un altro video ma bambini proprio violenti i bulli che non hanno il bullismo si basa fondamentalmente su cosa sull'incapacità di provare empatia perché se il bambino fosse in grado di provare empatia non tratterebbe gli altri in quel modo quindi che significa che viene spesso questi bambini crescono all'interno di ambienti familiari o scolastici nei quali appunto non viene sviluppata l'empatia il senso di comunità il bambino non viene ascoltato e quindi tutti questi muri innalzati creano poi che cosa una bomba atomica di rabbia di frustrazione che esplode in questi modi così violenti quindi l'educazione alla gentilezza l'educazione alla pace diceva Maria Montessori l'educazione cosmica noi siamo all'interno di un circuito molto più grande di un universo di persone di natura di luoghi di amore che dovremmo cercare di trasmettere ai nostri figli proprio per costruire un mondo migliore una comunità migliore per fare in modo che poi non siano i nostri figli a ritrovarsi bullizzati magari tra qualche anno a scuola quindi lavoriamo e mettiamoci in discussione anche rispetto agli insegnanti perché molto spesso vedo degli atteggiamenti muro da parte dei genitori quando magari gli insegnanti sottolineano fanno notare che possono esserci dei problemi sotto questo punto di vista dei figli e i genitori stessi non vogliono affrontare la problematica con se stessi intendo quindi ecco lavoriamo su di noi l'avrò detto cento volte e mai mi smetterò di ripeterlo voglio passare brevemente prima di concludere all'altro libro libro meraviglioso una scuola a misura dei sogni allora questo libro è stato scritto da un insegnante ci tengo proprio a leggervelo Giuseppe Paschetto è laureato in chimica e insegna scienze e matematica nella scuola secondaria di primo grado nel 2019 è stato inserito unico insegnante italiano tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize e nel 2020 è stato nominato consulente del ministro dell'istruzione per l'innovazione didattica e la formazione degli insegnanti allora questo è un libro prettamente secondo me per insegnanti ma che può essere interessante anche per i genitori perché? perché ci racconta proprio in prima persona la storia di questo insegnante ed è l'insegnante che tutti tutti vorremmo per i nostri figli c'è un insegnante che svolge il suo lavoro con passione che vuole innovare che vuole trasmettere il sapere e parla di moltissimi concetti che ritroviamo nel metodo Montessori l'abolizione della lezione frontale l'abolizione dei compiti il lavoro di gruppo lavorare in team eliminare la competizione tra i ragazzi cioè veramente è un libro ricchissimo di spunti per innovare una scuola che purtroppo ha tanti limiti ancora oggi e che punta su passare così delle informazioni poi lui insegna scienza e matematica quindi ha maggior ragione passare queste informazioni che rimangono sterili e che i ragazzi non sono minimamente interessati c'è una parte meravigliosa dove lui racconta come invece di fare i compiti in classe o le interrogazioni frontali crea delle lezioni strutturate ad esempio qui ne racconta una che è strutturata proprio su Alice nel Paese delle Meraviglie dove lui cioè i ragazzi devono risolvere questi problemi matematici all'interno di un percorso di labirinto in cui Alice deve uscire da questo labirinto e risolvere tutta una serie di enigmi che poi sono problemi matematici ragazzi è stupendo cioè io io impazzisco quando vedo queste cose e dico ecco questa è la scuola che dovrebbe essere non bisognerebbe fare gli insegnanti perché vabbè non ho trovato nient'altro vado a insegnare insegnare è un lavoro importantissimo e andrebbe fatto con grande passione con grande dedizione con grande interesse e un'altra parte che mi piace tantissimo di questo libro è quando paragona l'insegnante a un attore cioè ed è è bellissimo perché lui ora non riesco a ritrovare la parte appunto dove dove lo racconta perché purtroppo non ho non l'ho segnata ma effettivamente cioè lui dice se voi andate andate al a teatro e siete un pessimo attore la gente si alzerà e se ne andrà è il vostro compito tenere il pubblico la stessa cosa è l'insegnante cioè voi dovete catturare l'interesse dei ragazzi dovete accendere la scintilla del sapere la scintilla della conoscenza che è quella che muove da sempre l'universo la crescita dell'uomo lo sviluppo tecnologico lo sviluppo nella medicina lo sviluppo nelle arti il compito dell'insegnante non è insegnare scienze ti do il libro e tu impari la paginetta ma è accendere la scintilla della conoscenza e far sì che questa brilli e cresca nella vita dei bambini e questo secondo me vale anche per noi come genitori vale la stessa cosa accendere scintille fuochi piccoli grandi poi ci sarà quello che magari sarà perfetto per il nostro figlio e da lì verrà fuori appunto la sua passione il suo lavoro il suo futuro il suo impegno sociale volontariato quello che sarà ma comunque gli spunti li dobbiamo dare noi noi come insegnanti noi come genitori e quindi dobbiamo sentirci attori in questo cioè imparare a catturare l'interesse dei bambini bellissima anche la parte in cui parla dei laboratori e dice come si misura se una scuola funziona se i bambini ci vogliono andare nella sua scuola i ragazzi si fermavano per ore extracurricolari da soli cioè proprio dovevamo cacciarle a pedate e nei pomeriggi venivano organizzati da volontari genitori bellissimo anche questo delle attività per esempio c'era un papà in bianchino diceva le scuole fanno schifo perché sono tutte scrostate brutte allora loro davano i premi a chi la teneva più in ordine a chi portava le piante da casa perché c'era il papà giardiniere che insegnava ai bambini ai ragazzi perché qui parliamo di medie ai ragazzi a curare le piante il papà in bianchino quindi c'era il laboratorio della ristrutturazione in cui si sceglieva un'aula e dopo l'orario scolastico i ragazzi andavano e rinteggiavano la stanza ma proprio stuccavano staccavano i chiodi scartavetravano e questo in bianchino questo papà in bianchino che dice giustamente i ragazzi chiamavano prof ha insegnato un mestiere cioè una capacità che ormai è andata persa la mamma sarta che insegnava a ricucire magari i vestiti rotti cioè ognuno metteva una propria abilità per coinvolgere gli studenti e appunto accendere scintille questa cosa è stupenda a me mi apre il cuore ragazzi io mi vedete sono estasiata di fronte a questo e mi piacerebbe che il mondo fosse così fosse un mondo di condivisione di gioia dove ognuno mette a disposizione i propri talenti per far crescere la comunità per crescere tutti insieme che poi è quello che cerco di fare anche io un po' qui cioè mettere a disposizione di tutti quel poco quella poca conoscenza che ho quei pochi talenti per perché questi crescano vadano in giro per il mondo e questo questa secondo me è la cosa più preziosa che un insegnante dovrebbe avere questa capacità di coinvolgere di creare valore che non è insegnare storia geografia le date queste cose che lasciano davvero il tempo che trovano ma appunto accendere la scintilla della conoscenza è un libro prezioso secondo me questo assolutamente da leggere entrambi e spero di avervi ho parlato tantissimo e l'argomento è vastissimo perdonatemi se ho un po' divagato spero che vi sia piaciuto fatemi sapere perché ci tengo particolarmente iscrivetevi al canale condividete in questo caso davvero perché deve girare il più possibile tra insegnanti genitori chiunque per cercare di migliorare di creare un mondo più gentile grazie per essere stati con me ancora una volta vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao